Un coltello puntato alla gola subito dopo aver prelevato del contante al bancomat. Una rapina in strada accaduta nella notte ai danni di un cittadino del Gambia, 27enne regolarmente presente in Italia. Erano le 2.30 circa all'incrocio tra Viale Milano e Corso San Felice e Fortunato. Una coppia di Balordi ha intimato all'uomo di consegnare loro il denaro, appena 80 euro. Il Gambiano ha consentito in un primo momento, ma nel tentativo di difendersi è stato ferita ad una mano, tanto da dover ricorrere poi alle cure del pronto soccorso. Sul fatto sono ancora in corso le indagini dei carabinieri.